Salve a tutti, ancora la vita dei santi, dei beati, ancora una donna, ancora una laica. Parliamo di Sandra Sabattini, nata nel 1961, avevo 5 anni allora, e morta nel 1984 a soli 23 anni. Il 24 ottobre del 2021, di recente, nella cattedrale di Limini, il prefetto della congregazione dei santi, cioè il cardinale Marcello Semeraro, l'ha proclamata beata di fronte al popolo di Dio. Una beata giovanissima Sandra, un altro segno luminoso della santità che non è finita oggi e che si è spostata sempre più dai preti ai laici. E' un altro segno che la santità proviene dalla luce di Dio che mi piace, non è mia la definizione, definire come un bel caleidoscopio, cioè un avvicendamento fantasmagorico di luci, colori, immagini, figure. Questa è la santità, dove ognuno attraverso la sua testimonianza può darne esempio ed espressione. La Chiesa, quando tende alla santità, nei suoi battezzati, è proprio questo caleidoscopio che Dio gira, che è nelle mani di Dio. Com'è possibile che una ragazza appena uscita dall'adolescenza sia santa, sia stata proclamata beata? Anzitutto Sandra ha fatto un incontro straordinario, ha incontrato un prete eccezionale, un romagnolo di nome Don Oreste Benzi. Un uomo amante dei poveri, ma amante dei poveri sul serio, non come un pauperista borghese di sinistra, ma un prete che aveva sempre l'abito talare, innamorato di Gesù Cristo e quindi dei poveri veri, che sono Cristo e non un soggetto politico o di spendibilità elettorale. Sandra nasce a Riccione, pensate, dove tutti pensano che ci vanno solo i provoloni, diciamo, a cercare sulla spiaggia le ragazze. Sandra nasce a Riccione nel 1961 e vive, anche questa è una grazia, vive perché la sua famiglia vi si trasferisce in un ambiente ecclesiale molto sano da subito, perché va a vivere nella canonica con lo zio Don Giuseppe Bonini, parroco di una delle parrocchie di Riccione. Sandra conosce a 12 anni appunto Don Oreste Benzi, che aveva fondato la comunità Papa Giovanni XXIII e già a 14 anni, nell'adolescenza, quando a volte a certi ragazzi gli devi spiegare di non prendere in giro il nero, l'immigrato, l'omosessuale o cose del genere, a 14 anni Sandra fa il suo primo campo estivo con i disabili, diversamente abili sulle Dolomiti e lì si innamora di questa modalità di servizio e di amore cristiano. Dirà una frase che rimane celebre al ritorno dal campo delle Dolomiti, dirà, ci siamo spezzati le ossa, ma quella è gente che non abbandonerò mai. Sandra, come racconterà lo zio, lo zio appunto parroco di Riccione, sin da piccola era stata fatta oggetto da Dio di doni mistici e ne sarà e ne è ancora attualmente testimone un taccuino conservato dallo zio sacerdote che spesso la trova in adorazione alla sua piccola età davanti al tabernacolo eucaristico. È proprio vero, questa è una considerazione che faccio en passant, che talvolta le persone giovani che sono toccate dalla grazia di Dio e che accettano di esserlo e che hanno mantenuto una grande purezza di cuore pregano nello Spirito Santo in modo autentico e leggero. Una vera testimonianza per tanti credenti adulti che non sanno, non vogliono più pregare. Sandra dopo la maturità si vuole iscrivere a Medicina, proprio per il suo amore per i disabili, e si fidanza con Guido Rossi. Decidono di vivere il fidanziamento in castità, in maniera totalmente controcorrente. La radicalità della fede di Sandra le farà dire un'altra bellissima frase che è tratta dai suoi appunti. Il mondo vede una inflazione di buoni cristiani, mentre il mondo ha bisogno di santi. Quando si crede, diciamo così, veramente più facile o comunque meno difficile capire questa frase e anche imparare a correggere le proprie fragilità. Sandra muore in modo tragico il 29 aprile 1984, mentre scende dalla macchina, stava andando a un incontro della comunità Papa Giovanni XXIII, una macchina la investe e è proprio davanti al fidanzato Guido. Lei muore sul colpo, è un evento che sicuramente è stata una sciagura, ma che diventa l'inizio di un percorso guidato fedelmente da Don Oreste, che poi la porterà alla beatificazione. Nel 2009, pensate a 15 anni dopo la sua morte, mentre si stanno cercando di traslare, lo si fa non sempre dopo 15 anni, ma lo si fa anche allora, traslare i resti mortali di Sandra, portandoli in una chiesa di Rimini, si scava sottoterra perché Sandra volle essere seppellita, eppure non si trova più nulla di Sandra, non scomparsi completamente bene, nessuno l'aveva rubato i suoi resti mortali, neppure un osso. È un segno bellissimo, è un segno divino, che Don Oreste Benzi commentò così, Sandra non deve essere cercata tra i morti, rievocando la bellissima frase dell'Angelo, riportata dall'Evangelista Luca, le donne che vanno a cercare il corpo di Gesù, e alle quali l'Angelo dice non cercate colui che è vivo tra i morti. Il Vescovo di Rimini, Monsignor Lambiasi, che era presente nella sua beatificazione, disse una frase altrettanto bella, il chicco di grano che è Sandra, è caduto talmente tanto nel profondo della terra da sciogliersi completamente, da farsi terra. Ecco perché i resti non si trovano più. La beatificazione di Sandra fu possibile grazie a un miracolo di evidentemente soprannaturale guarigione, che avvenne, pensate a Guido Vitali, che era un assessore del comune di Rimini, ma che era amico di Sandra e amico di Don Benzi. Don Benzi, quando Guido Vitali si ammalò, era padre di due figli, volle a tutti i costi che lui e la comunità pregassero Sandra, Sabattini, e Guido Vitali guarì in maniera soprannaturale. La Chiesa, come sapete, è sempre molto rigorosa nel evidenziare, nel credere, nel valutare positivamente queste guarigioni soprannaturali. E grazie alla lungimiranza di questo prete in gamba, Don Oreste, Sandra è oggi beata e speriamo presto santa. Alla prossima.